Imparare a conoscersi attraverso la cucina è ciò a cui punta il gemellaggio interscolastico tra l'Istituto Petronio e il Ganbong College della Corea del Sud. Il dirigente scolastico Filippo Monaco spiega infatti come questo gemellaggio rappresenti un'occasione irrinunciabile per completare ciò che in un percorso di studi sembra a volte rimanere marginale, la conoscenza cioè delle tradizioni degli altri paesi, in questo caso culinari e dell'est asiatico. Cerchiamo di aprire gli orizzonti della nostra scuola, del nostro know-how principalmente del Made in Italy ma con una finalità ben precisa, quella di creare uno scambio culturale di interazione per cercare di creare questa interazione non solo con loro in vista del Made in Italy a febbraio del 2018 per le Olimpiadi Invernali come dicevo prima, ma maggiormente per creare questo gemellaggio con questa scuola di Guangsung con i nostri ragazzi che si avrà questo scambio appunto tra le parti che siamo stati ben lieti di attuare questa iniziativa. L'occasione nasce dai giochi olimpici invernali che si svolgeranno in Corea del Sud nel febbraio del 2016 nella provincia di Gangwon e dalla necessità culturale anche da parte degli amici coreani di conoscere i segreti di un mestiere, quello gastronomico culinario di cui l'Italia insigne rappresentante. La Corea del Sud infatti nella persona di Mister Ho in rappresentanza a quell'Istituto Petronio si è detta grande estimatrice della nostra tradizione culinaria. Nei giorni scorsi Mister Ho ha visitato l'Istituto di Pozzuoli in qualità di titolare della società che si occupa per conto del governo sudcoreano della gestione del servizio ristorazione durante i giochi olimpici. Ad accompagnare il signorone la sua visita in Italia e in Campania il dottor Antonio Baiano, rappresentante della Camera di Commercio del Sud-Est Asiatico, l'ente italiano che gestisce i rapporti commerciali con la Corea del Sud nella fase preparatoria delle Olimpiadi. Con la speranza che alla base ci possono essere dei rapporti imprenditoriali e che i nostri ragazzi possano realizzare e coronare un sogno in questa multiculturalità, della multimedialità in genere che è solo un fatto freddo a distanza ma con dei rapporti veri che si possono essere anche realtà commerciali e imprenditoriali per la nostra scuola e per i nostri ragazzi. Il gemellaggio che si realizzerà la prossima primavera prevede scambi culturali tra i due paesi. Gli studenti e gli insegnanti del Petronio trascorreranno un periodo in Corea per frequentare corsi di cucina e per conoscere la cucina orientale, così come sarà anche per i coreani che potranno venire a Pozzuoli per apprendere l'arte gastronomica della Campania e di Napoli.